Ciao, mi chiamo Francesco, vengo dall'Italia. Ciao, mi chiamo Francesco, vengo dall'Italia. Mi trovo qui in Turchia perché ho conosciuto la clinica International Plus. L'ho conosciuta su internet, ho richiesto un preventivo, ho richiesto informazioni per un intervento di addominoplastica. Dopo poche ore sono stato contattato da Anna, che parlava perfettamente l'italiano, è stata molto gentile, molto disponibile. Mi ha spiegato tutto quello che si doveva fare, tutti i rischi che si potevano correre, tutto ciò che c'era da sapere per quanto riguarda un intervento del genere. Dopo aver capito, dopo avermi rassicurato in tutto e per tutto, avermi mostrato la clinica, sono arrivato in Turchia, dall'Italia, dove mi ha aspettato lei personalmente nella clinica, bellissima clinica, devo dire pulita, ben organizzata, mi ha aspettato lei personalmente, insieme anche agli altri traduttori, molto gentili, molto disponibili, devo dire anche loro, Ugo, Mohamed, Salim, tutti veramente, veramente gentili e disponibili. ho conosciuto lo staff medico, lo staff medico professionale, preparato, l'intervento ovviamente è andato benissimo, anche il post-operatorio è andato molto bene, devo dire che sono veramente, veramente contento, consiglio vivamente la International Plus, grazie International Plus. Grazie a tutti.